Si festeggiava la fine dell'anno in corso e insieme alla torta sono spuntati dei saluti romani. È successo all'overfit in via del Perugino durante una serata organizzata da alcuni allievi della scuola marescialli e brigadieri di Firenze. Il video, pubblicato dal Tirreno e filmato nella serata di questo mercoledì, è finito nelle stories social del locale. Immagini nelle quali, tra un brindisi e l'altro, appaiono delle braccia tese a fare il saluto fascista. Il titolare ha subito rimosso il video dopo essere stato informato della circostanza, ma le immagini hanno subito iniziato a fare il giro del web. Sul caso sono scattate delle verifiche interne da parte dei carabinieri. C'era anche la torta con la bandiera italiana e la musica con l'inno nazionale, ha raccontato il titolare del locale, che ha aggiunto di non essersi accorto di nulla, altrimenti, ha precisato, non avremmo pubblicato il video. Molti dei giovani raccontano le immagini. Stavano riprendendo la scena col telefono cellulare. Altri però hanno alzato il braccio facendo il saluto fascista durante l'inno d'Italia.